La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa, soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. La religione pura, la vera religione. Parlare di religione potrebbe infastidire, potrebbe creare indifferenza, perché forse è un termine, potremmo dire, inflazionato, ma il vero significato di questa parola significa rilegare insieme, legare a Dio ed indica quell'atto di legame che si crea tra Dio e la sua creatura. Quindi è qualcosa di molto bello. L'uomo a motivo del peccato è separato da Dio, si è allontanato da Dio. Soltanto Cristo Gesù può riconciliare l'uomo a Dio, può unire nuovamente la creatura al creatore. L'apostolo Giacomo mette in evidenza appunto quella che è la vera religione, la religione pura che si manifesta nella pratica. Egli infatti dice che soccorrere gli orfani e le vedove e la religione pura è conservarsi puri dal mondo. Quindi agire nella pratica e vivere una vita santa, onorare praticamente Dio. Questa è la vera religione. In altre parole potremmo dire che la vera religione non consiste in quello che l'uomo dichiara, ma in quello che l'uomo è per la grazia di Dio, per quello che l'uomo ha sperimentato da parte di Dio. Tutti possono realizzare l'opera del Signore, tutti possono sperimentare il perdono di Cristo Gesù ed essere riconciliati a Dio, legati nuovamente a Dio per la persona e l'opera di Cristo Gesù il Signore. Sì, questa è la vera religione che non consiste nel seguire dei precetti, delle regole, vivere in un certo modo secondo quanto la tradizione gli uomini possono indicare, ma vivere nella pratica ciò che la Bibbia, la parola di Dio rivela sulla persona e l'opera di Cristo Gesù il Signore e manifestare praticamente il cambiamento operato da Dio dal momento che l'uomo peccatore si ravvede, dal momento che l'uomo riconosce Cristo Gesù il Signore. Ci aiuti Dio affinché non possiamo seguire una religione sterile, vuota, frutto dell'uomo, ma seguire quella che è la vera religione manifestata nella pratica per l'opera di Cristo Gesù il Signore, il Figlio di Dio. Grazie. 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 Grazie.